buongiorno a tutti allora fai il pettino da brrr che freddo che fa perché dobbiamo andare a parlare ancora di sci recuperiamo un po di tempo perduto finalmente riesco a stare quasi in pari con le gare perché abbiamo la gara del di domenica 20 dicembre 2020 slalom gigante dell'alta badia maschile dopo una bella prima manche con dieci atleti racchiusi in soli 76 centesimi e attenzione ai due classe 2000 norvegesi mcgraf quarto e braten quinto c'è da segnalare che al primo posto c'è pinturo davanti a zubjic e odermatt quindi la classifica dopo la prima manche che ahimè vede un solo italiano dei 30 e il povero tuonetti al ventitresimo posto perché dea liprandini ha fatto un disastro pronti via al terzo neanche alla terza porta era uscito sbagliato ha toccato con lo scarpone è andato fuori figure merda come si direbbero a napoli però capita capita si rifarà la prossima gara comunque la classifica dopo la prima manche vede pinturo al primo posto zubjic al secondo odermatt è terzo mcgraf è il quarto braten è quinto augen è sesto cranie che è sesto a sua volta a pari con augen febbre ottavo leitinger è nono e caviezer è decimo e come dicevamo tonetti è ventitresimo bello carico si spera della seconda manche per recuperare entrare nei venti sarebbe già qualcosa poi se entra nei quindici libidine seconda manche il primo a scendere è il russo andrienko trentesimo vediamo quale sarà il suo primo tempo da battere di questa seconda manche il suo tempo totale è 2 29 e 23 almeno arriveranno dei punti che potrebbero anche migliorare il suo pettorale visto che è 49 e sapete che passare magari dal pettorale 49 entrare in terza fascia tra virgolette quindi magari avere un pettorale 31 32 cambierebbero un po le cose tocca a bissig ventiseiesimo dopo la prima manche 28 centesimi di vantaggio sul russo nonostante un errore prima del primo intermedio scende in attacco e si prende il primo posto con ben 80 centesimi di vantaggio e questo è un bello strappo importante per magari recuperare qualche posizioncina magari entrare nei venti perché no tocca al nostro riccardo tonetti ventitresimo e dieci secondi centesimi di vantaggio alla fine dopo una gara un po sempre tra luce verde e luce rossa luce verde e luce rossa si prende il primo posto con 13 centesimi di vantaggio speriamo riesca entrare almeno nei primi venti sarebbe bello dei primi 15 anche perché a 13 centesimi è vero che ha migliorato miglior tempo dimanche per il momento ha migliorato di tre centesimi il suo vantaggio che aveva su bissig però sono soli tre centesimi tocca a feller ventonesimo dopo la prima masch ma salta subito una porta e deve già salutare la gara purtroppo sono quattro gare su quattro che non riesce ad arrivare in fondo come direbbe veda mannaggia mannaggia ogni tanto mi piace visto che fino a marzo aprile la formula 1 la moto gp non ci sarà ogni tanto è bello citare il grande guido veda tocca smid 48 centesimi di vantaggio diciottesimo dopo la prima masch almeno almeno il nostro il nostro tonno come lo chiamano anche se mi viene da ridere che uno sciatore lo chiamino tonno come un pesce cosa c'entra un pesce in montagna però visto che lo vogliono chiamare tonno lo chiamino pure tonno sarà almeno dei 20 diciannovesimo perché purtroppo smid sfrutta appieno il vantaggio di ben 48 centesimi e si prende il primo posto ma però per soli 21 centesimi c'è da dire però che a metà gara aveva ben 77 centesimi di vantaggio poi qualche errorino di qua qualche errorino di là e gli ha persi praticamente tutti e si è dovuto accontentare di 21 centesimi quindi ha perso anche 27 centesimi dal vantaggio che aveva dopo la discesa degli atleti dal trentesimo al sedicesimo posto la classifica vede sempre smida al primo posto tonetti al secondo che è lì lì per entrare nei 15 per ora male che vada sarà diciassettesimo al terzo c'è luiz al quarto c'è bissi che anche lui sta recuperando zitto zitto cacchio cacchio un po di posizioni al quinto c'è rid al sesto c'è radamus al settimo c'è sfars all'ottavo c'è andrienco che anche lui recupera delle belle posizioncine male che vada sarà 23 esimo sette posizioni recuperate libidine al nono c'è haser e al decimo c'è buffa jambè partono i 15 il primo non riesce a stare davanti a smid ci prova ford quattordicesimo dopo la prima masce 32 centesimi di vantaggio sempre in perdita ma in luce verde nell'ultimo tratto recupera centesimi e incrementa con il primo posto e 49 centesimi di vantaggio su smid primi 10 riuscire a entrarci non si sa mai non si sa mai staremo a vedere è lì è lì perché adesso tocca a murizier undicesimo quindi male che vada il simpatico americano sarà dodicesimo perché adesso tocca a murizier che è undicesimo con 31 centesimi di vantaggio anche lui lo sfrutta pieno e si prende al primo posto con 17 centesimi di appunto vantaggio ma al secondo intermedio era arrivata ad averne ben 57 poi errorino 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 alla fine si deve accontentare di stare davanti per soli 17 centesimi e perdere 14 dal vantaggio iniziale e quindi per ora il simpatico tonetti ha sempre il miglior tempo nella seconda masce certo sarebbe bene se i migliori tempi li facesse sia nella prima che nella seconda farli nella seconda recuperi delle posizioni ma ormai i buoi come si suol dire sono scappati in ogni caso quando mancano i migliori otto la classifica vede sempre murizier al primo posto ford è secondo kilde è terzo smith è quarto brentsteiner è quinto tonetti è sesto quindi libidine entra nel 15 sarà quattornicesimo male che vada luiz è settimo missic è ottavo libidine anche per lui che recupera un voto di posizioni caviezel è nono e christophersen è decimo dei primi otto per il momento quindi andiamo a vedere chi sono né febr né kraniek né augen né braten riescono a stare davanti a murizier anzi perdono alcuni perdono anche parecchie posizioni tocca mcgrath quarto dopo la prima masce 33 centesimi di vantaggio sempre in attacco sempre in luce verde alla fine si prende il primo posto ma per soli 17 centesimi però zitto zitto cacchio cacchio quarta posizione per un classe 2000 grande libidine tocca a odermatt terzo dopo la prima manche con soli 6 centesimi di vantaggio sul norvegese è dietro ed è solo terzo mcgrath è al suo primo podio in carriera e attenzione che ne mancano due ne mancano solo due tocca a zubcic secondo dopo la prima masce e 20 centesimi di vantaggio anche lui una gara troppo tranquilla e alla fine addirittura in nona posizione mcgrath e murizier ringraziano e sono entrambi sul podio con murizier che ricordiamoci era undicesimo gran recupero e tra mcgrath e la vittoria c'è solo pinturo pinturo che era primo dopo la prima masce ha un vantaggio importante ha la possibilità di vincere la sua prima gara in italia il gigante comunque la sua prima gara diceva la sua prima gara in italia quindi vediamo se sfrutta questa grande occasione perché il vantaggio è di 46 centesimi 46 centesimi di vantaggio sono gestibili perché comunque mcgrath non è che ha incrementato il suo vantaggio non ha fatto la miglior della seconda masce non ha fatto un garone per intenderci è sceso ha preso il primo posto ha perso 14 centesimi dal vantaggio che aveva però gli altri gli sono stati dietro e quindi gestire ma facendo correre lo sci e diciamo che pinturo gestisce anche un po troppo ma alla fine riesce a diriffo di raffa a portarsi a casa la vittoria ma per soli 7 centesimi pensate ne ha persi 39 da mcgrath alla fine la classifica finale vede pinturo al primo posto al secondo posto c'è mcgrath al terzo c'è murizier al quarto c'è odermatt al quinto c'è ford al sesto c'è kilde al settimo c'è smith all'ottavo c'è breinsteiner al nono c'è crani e al decimo c'è zucic faccio un piccolo paragone tra la prima e la seconda masce poi vi dico anche perché sono cattivello vi dico anche quanto è arrivato il nostro tonno il nostro tonetti andiamo a vedere nella prima masce pinturo era primo ha mantenuto la sua posizione zucic era secondo ed è finito in decima posizione odermatt era terzo alla fine ha perso solo una posizione è usceso dal podio ma è quarto mcgrath era quarto e recupera due posizioni ed abbassa il podio al secondo posto braten era quinto e esce completamente dai primi dieci aghen era sesto ed esce completamente dai primi dieci crani era anche lui sesto ed è arrivato al nono posto fervre era ottavo ed esce anche lui dai primi dieci le tig era nuovo e non entra nei primi dieci e la caviezza era decimo e anche lui esce dai primi dieci quindi vedete come lo slalom lo slalom sia speciale che gigante essendo su due manche tutto può accadere ma andiamo a vedere il nostro tonno in che posizione è arrivato geriamo il foglio tata 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 tonetti è undicesimo recupera ben 12 posizioni e mantiene anche il miglior tempo nella seconda masce però purtroppo per lui il miglior recupero di posizioni ad ibisic che ne recupera ben 13 detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video io cerco sempre di raccontarvi lo sci nella maniera più simpatica e rapida possibile vedete che sto velocizzando lì il più possibile proprio perché mi piace questo sport e vorrei che anche voi vi appassionaste a questo sport detto questo ci vediamo ai prossimi video ciao ciao